Polizia di Stato in festa con una cerimonia ridotta con un anno di pandemia alle spalle e tanti controlli. Anche Salerno ha celebrato il 169esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, un evento speciale tenuto sotto i portici del Palazzo della Questura di Piazza Mendola che quest'anno ha coinciso con i 40 anni dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento con la legge 121 del 1981 con la quale la Polizia di Stato ha assunto l'attuale veste di corpo civile militarmente organizzato per garantire la tutela dello Stato e dei suoi cittadini, prevenire e contrastare tutte le espressioni della criminalità e le turbativi all'ordine e alla sicurezza pubblica. Una cerimonia ridotta racchiusa nella deposizione della corona di fiori a ricordo dei caduti dinanzi alla lapide collocata all'esterno degli uffici della Questura di Salerno. A deporla il questore Maurizio Ficarra alla presenza del prefetto Francesco Russo del cappellano della Polizia Don Giuseppe Greco, il ricordo delle tante donne e uomini in uniforme che hanno sacrificato la propria vita a servizio delle istituzioni e dei cittadini. Un anno denso di attività per la Questura di Salerno chiamata a dover gestire i controlli in seguito alla pandemia, un anno di bilanci dove emerge una diminuzione dei delitti, degli omicidi, dei furti in abitazione e negli esercizi commerciali, così come delle rapine mentre sono aumentate le truffe e le frodi informatiche, così come gli episodi di maltrattamenti. Nel corso dell'anno 2020 e in questi primi mesi del 2021 tutte le attività di polizia sono state rimodulate a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al covid. Di particolare rilevanza sono state le attività investigative coordinate dalla procura della Repubblica di Salerno e dalle procure della Repubblica di Nocera e Vallo della Lucania condotte dalla squadra mobile e dai commissariati di pubblica sicurezza, rivolte prevalentemente al contrasto dello spaccio di droga che hanno consentito l'arresto di noti pregiudicati e il sequestro di armi e significativi quantitativi di sostanze stupefacenti. Particolarmente intensa è stata nell'anno appena trascorso l'attività dell'ufficio Digos e delle specialità della Polizia di Stato, Polizia Stradale, Ferroviaria, Polizia delle Frontiere, Polizia Postale e delle Comunicazioni. Notevole è stato l'impegno dei poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che oltre a garantire i controlli covid hanno con altrettanta determinazione contribuita ad innalzare il livello di sicurezza nel capoluogo e nelle sedi dei commissariati di pubblica sicurezza distaccati. Sì un giorno molto importante avremmo voluto viverlo diversamente, avremmo voluto viverlo in mezzo alla gente, tra i cittadini come abbiamo sempre fatto, anche perché è il quarantennale della nascita della Polizia di Stato. Questo è un anno doloroso per tutti e noi stiamo vivendo con molto dolore questa situazione sia per l'emergenza sanitaria ovviamente con tutti i lutti che ha visto nel nostro Paese. Noi come amministrazione su 90.000 poliziotti abbiamo registrato 10.000 contagiati. Fino ad oggi speriamo che si fermi con questi contagi nell'ambito della Polizia di Stato e abbiamo anche 14 purtroppo poliziotti che hanno perso la vita. Un momento importante anche per sottolineare l'impegno della Polizia di Stato durante proprio quest'anno di pandemia impegnata e delegata a servizi diversi. Certamente, anche questa è un'attività difficilissima quella che facciamo. Facciamo un'attività difficilissima perché abbiamo l'obbligo di fare rispettare tutte le norme anticontagio, abbiamo l'obbligo di indurre i cittadini a rispettare le leggi, però abbiamo la condivisione del dolore e della sofferenza che stanno passando tante famiglie per i lutti che hanno subito e per le malattie che hanno subito e la situazione del nostro Paese che come vedete è davvero particolarmente critica dal punto di vista economico perché registriamo ogni giorno ancora l'incedere dei contagi che non consente una ripartenza economica che darebbe davvero un po' di respiro a tante categorie professionali e a tanti lavoratori del nostro Paese. Sono diminuiti i furti nelle case così come nei negozi? Sembra che la criminalità abbia un po' abbassato la guardia ma non è così perché non manca il traffico di droga ed altri reati? Sì, certamente. È chiaro che con una ridotta mobilità sul territorio tutti i reati che presuppongono appunto una mobilità più evidente, andare nelle case o altro, riceve una diminuzione. Fortunatamente speriamo che rimanga così. Purtroppo il traffico di droga come testimone con le operazioni che noi abbiamo compiuto nei mesi scorsi continua incessantemente e questa è anche la nostra preoccupazione non solo per il traffico degli stupefacenti e soprattutto quando si indirizza ancora di più nei confronti dei più giovani ma perché temiamo che questi utili possano essere reinvestiti non appena ci dovesse essere e ci sarà quanto sicuramente prima possibile al ripresa economica. Noi temiamo che questi utili che hanno fatto con gli stupefacenti possano essere reinvestiti e la nostra attenzione è altissima su questo versante.